Benvenuti in Memmen Molto Altro, sono il main verdino e oggi, oggi, faremo la gara, quella importante. La gara C del GT Cup, quella che non sono riuscito a vincere nel precedente gameplay, ma che sono arrivato la prima volta terzo e la seconda volta secondo. Quindi questa, la terza volta che ci provo, dovrebbe essere la prima. Speriamo che sia così, la macchina credo che sia messa a posto, credo che posso vincere qualche cosa e spero di metterle sulla copertina, ho vinto. Una cosa del genere. Vediamo un pochettino, la macchina sembra tenere, anche se appena si tocca qualcosa che si rigira non riparte subito perché è una macchina veramente brutta la Camaro. Però, diciamo che c'è in pista, c'è in pista. Ovviamente salto sempre la qualificazione perché voglio andare veramente a fare subito la corsa, intanto le qualificazioni non le farò mai. E vediamo un pochettino, a meno che negli eventi quelli più importanti, più impegnativi, perché questo non è un evento impegnativo. Che sbaglio troppo in quella curva, prima curva maledetta. È quella che io sbaglio, questa qua, di questa prima gara, poi quell'altra riesco un pochino a gestirla, diciamo così. Vediamo un po' che succede oggi. Vai, 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 pigliagliela. Allora, guidiamo calmi. Anche se questi ti fanno innervosire, eh. E non poco, e non poco. E non poco ti fanno innervosire. Non ti girare, non ti girare in tazzar da giratte. Vai, meno male. Almeno siamo ancora in partita. Attenzione qui. Guarda quella mi ha dato una sportellata, maledetta. Ma che ce l'hai con me? Maledetta pracica. Quella rossa. Dai che l'hiamo presa in drift. Vai, vai, che buona. Non me la voglio montare la testa, non me la devo montare. Non c'è niente da montare. Se quella gialla, guarda come va. Che poi io l'ho comprata la NSX, eh. Solo che non è ancora pronta per le gare, perché c'è da fare qualcosina in più. E poi non riesco veramente a gestirla quanto la Camaro, che è ingestibile di suo. Però riesco a gestirla meglio. Difficile a dirsi, ma è così. Siamo primi, ma non me voglio montare la testa. Devo pilotare bene, perché se piloto bene... La vinco. Così, con calma. Che tanto loro perdono qualcosa se io piloto bene. Ho l'adrenalina a mille. In questo momento. Io devo fare così piano, lo so che non si guida così, ma è meglio in prudenza che in male. Fatemi concentrare. Lo vedi che mi dà la sportellata, maledetta. Guarda, questa pure rossa. Maledette. Tutte e due, pure da Roma, siete. Guarda, che sportellate che mi stanno a dare. Guarda ora che succede qui, eh. È il casino quello cosmico. Mamma mia, mi stavo a girare... Mannaggia, gialla, non ho fatta passare la rossa, sì, però, mannaggia. Ho notato, io, la sportellata, bella. Ma che puoi far solo te? Cerchiamo di andarcene. Uffa. Troppa frenata, lo so. Non ti gira, bella mia. Meno male. Non ti sei girata. Eh, però la gialla è passata, vedi? La gialla è passata, mannaggia. Meno male che non è l'ultimo giro, se no rusicavo veramente. Eh, troppi errori. Bella mia, non ti gira. Vai. Dobbiamo tenerci il secondo posto, mi sa. Che non sarebbe male per niente. Mannaggia a voi. Meno male che qualcuno mi ha dato una sportellata che non mi ha fatto fermare la macchina. Ma mannaggia a voi. Però ero primo, mannaggia. Vediamo se riusciamo a prendere la verde qua. Almeno quella che arriva a secondi e poi sperare nell'altra gare. Vediamo che si può fare. Ora o mai più, ora o mai più veramente. In realtà potremmo anche prendere la gialla, ma accontentiamoci. Per non sbagliare. Va bene, va bene, va bene. Secondo me lo tengo tutto, dai. Va bene secondo. Va bene secondo, assolutamente. Assolutamente. Ce la combattiamo con questa gialla. In tutte le altre tre gare che vengono. Però, però ci siamo. Dai, ci siamo, ci siamo. E' andata abbastanza bene sta gara. Abbiamo anche il nuovo record di pista. Meno male. 7000. Chi l'aveva mai visti su sto tracciato? Stiamo migliorando. Sessione successiva. Niente qualifica, ovviamente. Ma c'è da fare la gara. E questa non è facile. La Deep Forest dovrebbe essere... Se non mi ricordo male. La Deep Forest è quella... Ok, però senza... I cordoli finali, diciamo. Ok. Quella che devo frenare subito la curva qui e non farla... A bombazza, diciamo. Questa viola, ma dove le va? Perché su sto tracciato sempre si mette in me... Guardala, va. Guardala come se... Mannaggia a te. Questa viola è maledetta qua su sto tracciato. Guardala, guardala sempre in mezzo. Va, affancina. A te sto colore che porta male in televisione. Ok, vai. Noi dovremmo andare a combattere con quella gialla, eh. No, con queste qua. Mannaggia, mannaggia. Meno male che mi ha rimesso in moto. Guarda, quella verde e quella gialla stanno sempre prime. Cerchiamo di riprenderle. Quella gialla sarà difficile, ma... Ma è detto che non possiamo riuscirci. Tagliamo un pochetto, ma che ce frega. Basta che riusciamo ad andare un pochino avanti. Eh, stanno parecchio lontane. In accelerazione sono formidabili. Però avvicinandomi alla verde qua... Vai, 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 vai. Ha già l'annata fuori. Ha già l'annata fuori. Iala. Se me prendi anche la verde... Facciamo le cazzate qui. Scusate la parola. Andate. Mannaggia, che brutta cosa che abbiamo fatto. Lì, potremmo farla. Dai, che stanno tutte e due qua. Dai. Guardate come mi ha mannato fuori sta maledetta gialla. Che va a fancina. Guardate, che va. Guardate. Guardate. Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Ma guarda qua Non lo so se riesco a fare qualcosa Per le prossime due gare Sostanzialmente è invariata la classifica Sono terzo La NSX non doveva sta avanti Ho fatto i record della pista Però mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Se vinco ste due Non lo so Non lo so che può succedere Tecnicamente potrei vincere Però Qui me la posso giocare Perché la conosco Come quell'altra precedente Ma È dura eh Quella sta sempre prima la seconda Cioè la La NSX Mannaggia lei Cheg 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che errore madornale che sono andato a fare. Che errore che errore. Grazie a tutti. Questa è incareggiata. Proviamoci. Questa maledetta. E va a fancina a me, va a fancina a me proprio. Ah dai, rosicamento e speriamo dopo che sia vittoria. Questo scriverò rosicamento e poi non lo so. Ma dai, ma come si fa? Abbiamo fatto tutto bene, tutto bene. Secondi. Poi eravamo primi qui. Eravamo primi anche a quell'altra in realtà, poi abbiamo sbagliato qualcosa, però lì ci stava, ci stava. Questa vista mi sta levando veramente tanta tanta energia. Veramente tanta tanta tanta. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere un pochettino. Mannaggia la miseria. Veramente mannaggia la miseria. E' rosicata proprio. Quando uno rosica, a Roma si dice rosichi quando, ecco, quando non accetti la cosa, non accetti la cosa. Quello è rosicare. E più delle volte è demerito mio. E la gialla è in casino a superarla. Questa arancione, cioè questa viola si mette in mezzo. Quella davanti, maledetta. Ogni volta. Guarda, adesso si mette pure quest'altra. Poi vanno fuori. Guarda, guarda, guarda lì. Guarda lì. Non so quanto mi stanno a creare. Guarda che mi stanno a creare. Ah, io guardate, no. Vabbè, sta macchina non rottame. No, no. È difficile che io recuperi sta gara. Guarda. 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 Hanno cominciato a sbandarmi davanti Per dare fastidio E ci sono riuscite Ci sono riuscite Ci sono riuscite Poi quelle viola sono proprio tremende Una cosa Mamma mia Mamma mia il nervoso che fanno venire Proprio il colore danno fastidio Mamma mia Ma guarda lo sapevo Lo sapevo che si metteva davanti Ringrazio che non si può rompere macchine qui Se no già ti avrei rotto Qui se arriviamo secondi come prima Sarebbe un'idea ma No ti venga addosso io Che bella È rotto proprio E' namo Vediamo che cosa si può concludere qua Ultimo giro Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. Non so se riuscirò a arrivare secondo, ma la vedo dura. Forse nella curva quell'ultima. No, ma dai! Non ce voglio credere. Non ce voglio credere. Sesto. E amarezza. Le do vince tutte e tre. Per sperare un miracolo. Andai, un punto fatto. Proviamoci, dai, proviamoci. Rosicata e fallimento. Sarà il titolo di questo coso qua. Di questo gameplay. Rosicata e fallimento. Tanto fa parte delle cose. Non è che va sempre bene le cose. Se erano messe davanti all'ultimo. Cioè all'inizio e poi... Ecco. Per sbrigarsi e far qualcosa. Vediamo la Deep Forest se mi fa soddisfazioni o oblio. Non è più oblio, però vediamo. No, non è più oblio. No, non è più oblio. Vediamo che si può fare. Sono proprio più veloci queste, la Dodge Viper e quell'altra. Sono proprio veloci queste, la Dodge Viper e che si può fare. Siamo qui di superarla ma... Passate a vedere a voi due. Meno male, avevamo presa bene qua. Quanto stanno sempre lì, eh. Come le sento che stanno dietro. Vediamo, vediamo che si può fare. Dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Dai che ci siamo, mettete davanti. meno male, primi guarda come spigne quella NSX c'è un'accelerazione incredibile fatte una affancina vediamo come stiamo adesso in classifica, non credo proprio bene, però a terzi forse ci siamo, dai vediamo un po', vediamo un po', dobbiamo stare con i piedi per terra, questa è difficile perché quella è notturna e l'abbiamo anche sbagliata l'abbiamo anche sbagliata e non si deve sbagliare questa questa è fondamentale per vedere se si va o non si va se si va o non si va mamma mia, mamma mia mamma mia ragazzi, e ragazze Special Stage R5 non siamo partiti male insomma, ne manco bene, però non siamo partiti male Adesso Mortaci vostra Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Mettete in dritta Mannaggia a te Dritta Non ci voglio credere Non ci voglio credere Assolutamente Non ci voglio credere Non ci voglio assolutamente Credere Non ci voglio credere Non se la potrò mai fare, vediamo. E' dura, è dura, è dura arriva lì. Se sbagliano, che vanno fuori strada, io non lo so, qualcosa deve accadere, qualche miracolo. Non lo so che cosa potrebbe accadere, non lo so. Non lo so, qualcosa deve accadere. Viala, 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 viala. Oddio, oddio che cosa ho recuperato, oddio che cosa ho recuperato. Fammi vedere. Ho recuperato l'impossibile. Ho recuperato l'impossibile. Con questa gara ho recuperato l'impossibile. Ce la giochiamo tutta all'ultimo. Ho recuperato l'impossibile, devo stare tranquillissimo. Devo stare tranquillissimo. E' qua che si vede la fortuna, l'audacia, la merenda e la cena. C'è tutto qui, c'è la vita. C'è il mare e ci sono le montagne. Stiamo concentrati. E questa non è nemmeno facile come pista. Trial Mountain. Uno dei circuiti forse il più bello. Il più bello, ma è tosto. È tosto veramente, ragazzi e ragazze. Allora, vediamo che se può fare. Andiamo a pilotare tranquilli. La NSX è sempre a rompere le scatole e sta lì, eh. Quella più veloce che c'è, che c'è sta, che puoi stegare. Se io riuscissi a mettermi davanti. Con calma. Con calma, vai. Se la guidiamo bene, stiamo calmi. Stiamo calmi, veramente, ragazzi e ragazze. E loro sono veloci poi in recupero qua. Un po' di terra non ci voleva. Un po' di terra non ci voleva. Da, va bene. Ultimo giro. Non so cosa potrebbe accadere. Noi andiamo tranquilli per la nostra strada. Piano. Forte, ma piano. Qua abbiamo un pochetto sbagliato, però va bene. Vediamo come stanno da. Stiamo tranquilli, stiamo tranquilli. Tranquillità, tranquillità. Tranquillità, tranquillità, siamo tranquilli. Tranquillità, tranquillità. Neanche questa curva. Dobbiamo stare attenti anche all'ultima, che è fondamentale. Queste altre due sono fondamentali. Attenzione. Vai, vai. Vai che l'abbiamo vinta. Vai che l'abbiamo vinta. Dai, sì, sì, sì. Vediamo come siamo in classifica. Non lo so che cosa potrebbe accadere. Vediamo. Andiamo. Sì. Mi metto così. Dove state? Eccolo. La testa così. Non so che sto facendo. Sì, sì. L'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta e ci danno la macchina adesso. Mamma mia, devo salvare. Mi devo ricordare di salvare. 55.000 più bonus. Vediamo. Wow. Wow. Dalla rosicata alla vincita, alla vittoria. Wow. Sei il campione di categoria. Quanto ci è voluto. Hai una nuova macchina. Andiamo a vedere che macchina è, ma prima di fare questo andiamo a salvare ragazzi e ragazze. Dalla, dal rosicamento alla vittoria. Sarà il titolo da, andiamo a salvare assolutamente. Salva. Mamma mia quanto so contento. Sono stremato, stremato. È tosta. È tosta. Poi con la Camaro è tosta. Poi quando c'è una macchina migliore, dopo le faccio così. Ma la Camaro è tosta. Salvataggio non rimuovere la memory card. Chi è ta' muove? Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, è tosta veramente. Vediamo che macchina abbiamo preso. La Chaser LM Edition. Questa. Uh, niente male sta bestiolino. Ma niente male davvero. Andiamo a vedere la Chaser che macchina è. La Chaser dovrebbe essere, vediamo se c'è, la Toyota. C'è il marchio Toyota. Ho visto lo sponsor. Allora, vediamo un pochettino. No, non è Toyota. O è già modificata questa? Dovrebbe essere. Non è una Toyota. Però non mi piace entrare qua, se no. È già tutta modificata, ti pare? Mi sa di sì. Allora, il motore l'abbiamo visto. I freni. Tutta modificata questa. Siamo sicuri. È completamente già, già fatta? Il volano. Ma te, io, io vedo un attimino altri. Modifica da gara? Ma no, ma non c'è. Non è la Toyota, allora. Che cavolo ti macchinai, allora? Ah, la Subaru no. La Ch... Come si chiama la macchina? La Chaser. Chaser, vediamo un pochettino. La Chaser. Vabbè, prima mi si rimette internet qua. La Chaser, che cavolo ti macchinai? Dice Toyota, ma non è Toyota. Mi sono andata a Toyota. Forse non me la fa fare proprio. La Chaser. Vediamo altre riduzioni della massa. Eh, forse è una di quelle macchine speciali che però non... La Chaser. Ne verremo a capo, ne verremo a capo. Non si capisce che cavolo di macchina potrebbe essere. Andiamo un pochettino. La Chaser. Internet non funziona come al solito. Che cosa funziona su me e molto altro? Nulla. Chaser. Chaser. E niente, vabbè, lo scopriremo poi vivendo, come diceva una canzone. Proviamo TVR, ma no, messa a punto, vediamo. No, si vede che è già messa a punto di suo. Non lo so, non lo so. Proviamo la Chryser. Tant'amo insedute. No, la Chaser non sa da esiste. Non sa da modificarsi e non se sa. Allora, io direi che questo video gameplay può finire qua. Che vittoria. sofferta, allucinante, l'albero di Natale, tutto mi è passato davanti. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina. E così si fa riposare, si fa una bella doccia. Fatelo anche voi, riposate, fate i compiti, fate quello che vi pare. Lavorate, giocate, siete felici. Il mondo è bello. Dopo questa vittoria il mondo è bello. Vi saluto e vi aspetto nel prossimo video, video gameplay e diretta di me e molto altro. Grazie, 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 grazie Dio che mi ha fatto vince. Grazie, grazie anche a voi. Grazie a tutti, grazie anche a me stesso. Grazie a tutti, grazie a tutti.